Il tuo sogno Dare forma e solidità ai tuoi progetti Offrirte esperienza, formazione E anche il supporto finanziario per la tua start-up Saremo i tuoi business angel Un'idea nuova merita di crescere in fretta Fai il passaggio giusto Passa Grazie 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 Ragazzi Sette in punto Abbiamo iniziato con questo spot Che parla di un progetto A cura di Confindustria Padova Per sostenere e favorire le start-up Per le giovani imprese Ma non è soltanto una start-up di idea Ma è un progetto proprio per sviluppare In maniera concreta Le imprese Quindi creare economia Creare imprenditoria Insomma creare occupazione E parliamo di questo progetto Rebound Insieme ad Amir Baldissera Buongiorno e benvenuto Buongiorno a tutti Di Confindustria Padova Sezione Giovani Che è uno dei Come dire Degli ideatori di questo progetto Insomma Uno delle guida di questo progetto Di che cosa si tratta? Noi l'avevamo un po' anticipato Al telegiornale Una start-up seria Che non è un finanziamento così Per lusingare un'idea Ma è un progetto che ti permette Di creare un'impresa Esattamente Allora Rebound è un progetto Nato da un bando della Camera di Commercio Poi distribuito tra vari partner Forema, Confindustria e il Ban Veneto Per sostenere dei giovani Con un'idea di impresa Quindi in realtà Non siamo ancora a livello di start-up Ma siamo Il passo subito prima La business idea Dei giovani Studenti Come quello che abbiamo visto Nel video di poco fa Che Sanno di avere le carte in regola Per poter affrontare il mercato Sono convinti di avere una bella idea Sanno di avere una squadra alle spalle Che li sostiene E vogliono provare a mettersi sul mercato Ma come farlo? Rebound è un progetto Per aiutare questi giovani A acquisire le competenze necessarie Per arrivare a costruire un'impresa Quindi siamo nel passo meno uno Prima della start-up Ci fa un esempio concreto Perché so che a questo progetto Rebound Partecipano otto idee Otto imprese Otto ragazzi Che tra l'altro Noi presenteremo Nel corso del telegiornale Ogni venerdì Cioè come funziona? Un esempio proprio pratico Io ho un'idea Non so mi invento Un'app Diciamo Perché poi Sono questi i prodotti Che oggi Vanno per la maggiore Ho questa bella idea Dell'app Non ho i soldi per aprirmi Cioè dove vado? Cosa faccio? Esatto Questa lampadina che si è accesa Dove la collego? A quale presa? Esatto Questo è lo scenario tipico In cui si trovano tantissimi giovani Con delle belle potenzialità Delle belle idee Ma che non riescono Ad agganciarsi al mercato Rebound è il primo passo Per riuscire a Arrivare a costruire qualche cosa Quando non ho ancora Un'azienda So che mi mancano anche Non solo non ho il denaro Per costruirla Ma so che mi mancano anche Alcune competenze Se si entra nel mondo delle start up Una delle prime cose Di cui si sente parlare È un business plan Piuttosto che un business model Che cosa sono? Ci può tradurre? Certo Anche per chi ascolta a casa Certamente Voi giovani Tutte queste parole Le masticate con facilità Ma un business model Un business plan Che cos'è? Allora Il business model È la Diciamo Il piano strategico Che sta alla base Di una qualunque idea di impresa Il progetto Il progetto Il progetto O il mosaico Che descrive Tutti quanti i tasselli Dell'impresa Che devono Muoversi e girare Tutti quanti all'unisono Per arrivare A creare Il valore Per il cliente finale Questa è l'idea In estrema sintesi Del business model Il business plan Ne è diciamo La forma finanziaria L'aspetto Strettamente Economico finanziario La nota dolente Quanti soldi ci vogliono Perché il mio business model Diventi Realtà Ma soprattutto È spesso anche La nota gaudente Invece Perché è l'aspetto Che ti dice Di quanto moltiplichi Di quanto moltiplichi Il capitale Dell'eventuale investitore Che decide di investire Nella tua idea di impresa E oggi questo è possibile? Non è facile Ma è possibile Non è assolutamente facile Però è possibile Sì Come avete selezionato Questi otto ragazzi? Esatto In realtà appunto Gli otto progetti Che andrete a conoscere Nelle varie puntate Del telegiornale Sono le otto eccellenze Che sono emerse Dal progetto Rebound In realtà Si è partiti Da più di 170 giovani E da oltre 70 idee di impresa Quindi Assolutamente Un gran Un gran bel numero 70 idee di impresa Tutte valide O alcune proprio Non stavano in piedi? Allora Siamo arrivati a otto Ecco appunto Ma otto perché C'è la possibilità Di sostenere otto Perché è inutile Illudere 170 Meglio fare otto percorsi concreti Oppure perché solo otto In realtà Allo stato attuale Erano idee Che possono funzionare Il processo di selezione Non è stato per niente facile È vero In mezzo A tutte le idee Che sono state presentate Ce ne erano anche Di poco sostenibili Magari non particolarmente Aggiornate Ma Ce ne erano anche Molte Di assolutamente valide Quindi Il processo Si è articolato Su vari step Da 70 a 40 Poi a 20 Per arrivare poi Alle 8 finali Coinvolgendo via via Partner diversi E approfondendo L'analisi Stringendo le maglie Del filtro Ad ogni Ad ogni nuovo passaggio In realtà appunto Soprattutto Nella parte finale Della selezione C'è da dire Che c'erano varie idee Potenzialmente Interessanti Sono state scelte Le migliori Tra tutte Come avete scelto Perché Non metto in discussione La vostra competenza La vostra esperienza La vostra post-fazionalità Poi non è che la scelta Una persona C'è proprio Tutto Un team Una squadra Con Findustria Quindi sono imprenditori Con esperienza Navigati Che cosa che vi dà La garanzia Che le idee Che avete scelto Siano delle idee Vincenti O avete anche Rischiato su alcuni Progetti Perché poi alla fine Un'idea vincente È anche frutto di rischio L'imprenditore Illuminato È quello che rischia Allora assolutamente sì La parola garanzia Non è possibile utilizzarla In questo contesto Noi i ragazzi Scommettono sulla loro idea E noi scommettiamo Sulla loro idea E sul loro team Perché teniamo conto Che l'idea in realtà Vale l'1% Del totale Il 99% È sforzo Fatica E sudore Quindi un'idea Come va supportata Perché anche Perché un'idea buona Diventi Un'idea vincente Nel mercato E diventi Monetizzabile Perché poi Insomma ripresa A fine di lucro Non è certo A fine di Pro bono Allora Dipende dallo stato Di maturazione Della startup stessa Ad esempio Con rebound Dicevamo Si parla Di una fase Molto precoce Delle startup Dove la formazione E la consulenza Sono gli elementi Più importanti I ragazzi devono Uscire dal loro contesto Universitario Più strettamente tecnico E capire Com'è il mondo del lavoro E di che cosa c'è bisogno Per rendere Strutturata e completa La startup Da un punto di vista Di team Da un punto di vista Di business model Di business plan Le cose che abbiamo visto Un attimo fa Quindi in questa fase L'aspetto di formazione E di affiancamento Consulenziale Sono gli elementi Più importanti Nella fase successiva C'è la parte Diciamo operativa Loro devono cominciare A creare Il prototipo La demo Il primo prodotto Il numero zero Il numero zero Esattamente E quindi Hanno bisogno In quel caso Di una sede Presso cui operare E qui ci sono I vari co-working Il talent garden I laboratori Gli ambienti di co-working Che possono permettere loro Di avere un ambiente Presso cui lavorare Una specie di azienda Una mini azienda Esatto Un'azienda in affitto In azienda in affitto Perfetto Lei è un giovane imprenditore Mi sta esaurendosi il tempo A disposizione Come ha iniziato Come ce l'ha fatta Proprio 30 secondi Allora Anche per me È stata una startup In realtà Ero incubato Dentro un'altra azienda E ad un certo punto Si è visto Che i due business model Divergevano Erano differenti E quindi Mi è stata fatta La proposta Di separare Un ramo di azienda Creando un'azienda Ex novo E oggi? E oggi Funziona Funziona e funziona bene Posso chiedere l'età Per così? Allora So che non si fa Ma per un esempio Per i giovani 37 38 Tra due settimane E si può dire Un imprenditore affermato Diciamo che mi diverto Perfetto Ringrazio Amir Valdissera Subito dopo la pubblicità Abbiamo il vicepresidente Di Confindustria Giovani Per parlare appunto Delle opportunità Dei giovani Opportunità di lavoro Occupazione E impresa